La Polizia di Stato, divisione Polizia, anticrimine con il questore di Salerno, Maurizio Ficarra, ha emesso 12 provvedimenti di divieto di ritorno in alcuni comuni della provincia di Salerno per la durata di tre anni nei confronti di vari pregiudicati, sottoposti nei giorni scorsi a controllo dalle pattuglie in servizio. In particolare, tre provvedimenti hanno colpito un gruppo di soggetti dediti alle truffe e alle persone anziane, i quali, fingendosi avvocati, richiedevano alle ignare vittime e somme di denaro incontanti per simulati incidenti stradali causati da loro congiunti. Altri nove provvedimenti, inoltre, venivano emessi a carico di altrettanti pregiudicati che erano dediti abitualmente alla truffa e dal gioco d'azzardo nelle aree di servizio autostradali con il gioco delle tre campanelle. Inoltre, questore ha emesso due provvedimenti di allontanamento dei luoghi dove vengono svolte lecite attività, il daspo urbano, a carico di altrettanti soggetti dediti in zona brignano nell'attività di parcheggiatore abusivo.